Un caloroso saluto da Nikos di Trevi Meteo. Diamo insieme uno sguardo all'avvio di settimana, perché sarà una settimana contraddistinta dall'anticiclone delle Azzorre su tutta l'Europa centrale mediterraneo. Non vedremo perturbazioni, quindi sarà una settimana di piena estate con clima tipicamente estivo, massimo oltre 30 gradi al centro-nord. Pochi gli effetti dei temporali se non solo al sud Italia, guardate la copertura nuvolosa ci mostra cieli sereni o al più poco nuvolosi. Guardiamo insieme la mappa in sintesi dell'Italia, pochissimo da commentare, il sole protagonista solo al sud Italia sulle zone interne potrebbe fiorire qualche temporale in locale sconfinamento sui vicini tratti costieri. Invece al nord guardate le temperature diffusamente fino a 30 gradi nel pomeriggio. Dettagli come sempre sull'app di Trevi Meteo.